Se i personaggi del Vangelo avessero avuto una specie di contachilometri incorporato, penso che la classifica dei più infaticabili camminatori l'avrebbe vinta Maria. Gesù a parte, naturalmente. Ma si sa, egli si era identificato a tal punto con la strada, che un giorno ai discepoli da lui invitati a mettersi alla sua sequela confidò addirittura Io sono la via. La via, non un viandante. Siccome allora Gesù è fuori concorso a capeggiare la graduatoria delle pellegrinazioni evangeliche, è indiscutibilmente lei, Maria. La troviamo sempre in cammino, da un punto all'altro della Palestina, con uno sconfinamento financo all'estero. Viaggio di andate e ritorno da Nazareth verso i monti di Giuda per trovare la cugina con quella specie di supplemento rapido menzionato da Luca, il quale ci assicura che raggiunse in fretta la città. Viaggio fino a Bethlehem, di qui a Gerusalemme per la presentazione al Tempio, espatrio clandestino in Egitto, ritorno guardinco in Giudea col foglio di via rilasciato dall'angelo del Signore e poi di nuovo a Nazareth. Il pellegrinaggio verso Gerusalemme con lo sconto comitiva e la doppia del percorso con escursione per la città alla ricerca di Gesù, tra la folla ad incontrare lui, errante per i villaggi di Galilea, forse con la mezza idea di farlo ritirare a casa. Finalmente, sui sentieri del Calvario, ai piedi della croce, dove la meraviglia espressa da Giovanni con la parola Stabat, più che la pietrificazione del dolore per una corsa fallita, esprime l'immobilità statuaria di chi attende sul paeudio il premio della vittoria. Icona del cammina cammina, la troviamo seduta solo al banchetto del primo miracolo, seduta ma non ferma, non sa rimanersene quieta, non corre col corpo ma precorre con l'anima e se non va lei verso l'ora di Gesù, fa venire quell'ora verso di lei, spostandone indietro le lancette, finché la gioia pasquale non irrompe sulla mensa degli uomini. Sempre in cammino, è per giunta in salita, da quando si inizia in viaggio verso la montagna fino al giorno del Golgotha, anzi fino al crepuscolo dell'ascensione, quando salì anche lei con gli apostoli al piano superiore in attesa dello spirito, i suoi passi sono sempre scanditi dall'affanno degli alture. avrà fatto anche le discese e Giovanni ne ricorda una quando dice che Gesù dopo le nozze di Cana discese a Caparno insieme con sua madre. Ma l'insistenza con cui l'Evangelo accompagna con il verbo salire i suoi viaggi a Gerusalemme, più che alludere all'ansimare del petto o al gonfiare dei piedi, sta a dire che la pellegrinazione terrena di Maria simbolizza tutta la fatica di un esigente itinerario spirituale. Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non abbiamo traguardi, siamo pellegrini come te, ma senza santuari verso cui andare, siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri passi, camminiamo sull'asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme. Forzati del cammina cammina, ci manca nella bisaccia di viandanti la cartina stradale che dia senso alle nostre itineranze, e con tutti i raccordi anulari che abbiamo a disposizione la nostra vita non si raccorda con nessuno svincolo costruttivo. Le ruote girano a vuoto sugli anelli dell'assurdo e ci ritroviamo inesorabilmente a contemplare gli stessi panorami. Donaci, ti preghiamo, il gusto della vita, facci assaporare l'ebbrezza delle cose, offri risposte materne alle domande di significato circa il nostro interminabile andare. E se sotto i nostri pneumatici violenti, come un tempo sotto i tuoi piedi nudi, non spuntano più i fiori, fa che rallentiamo almeno le nostre frenetiche corse per goderne di profumo e ammirarne la bellezza. Santa Maria, donna della strada, fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente, non a nastri isolanti, entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Liberaci dall'ansia della metropoli e donaci l'impazienza di Dio. L'impazienza di Dio ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni di strada. L'ansia della metropoli invece ci rende specialisti del sorpasso, ci fa guadagnare tempo, ma ci fa perdere il fratello che cammina accanto a noi. Ci mette nelle vene la frenesia della velocità, ma svuota di tenerezza i nostri giorni. Ci fa premere sull'acceleratore, ma non dona la nostra fretta come alla tua, sapori di carità. Comprime nelle sigle perfino i sentimenti, ma ci priva della gioia di quelle relazioni corte, che per essere veramente umane hanno bisogno del gaudio di cento parole. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio, facci capire come, più che sulle mappe della geografia, dobbiamo cercare sulle tavole della storia le caravaniere dei nostri pellegrinaggi e su questi itinerari che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umani, nei tramonti delle onipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi. Negli attese di solidarietà che si colgono nell'aria, verso quei santuari dirigi i nostri passi per scorgere sulle sabbie dell'effimero le orme dell'Eterno, restituisci sapori di ricerca interiore alla nostra inquietudine di turisti senza meta. Se ci vedi allo sbando sul ciglio della strada, fermati, samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza e poi rimettici in carreggiata dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto e allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea quando ci salisti tu.